Grazie a tutti. I nostri delegati che ogni giorno con la loro attività sindacale sono impegnati ad affrontare sul campo i problemi conseguenti all'insufficienza di legalità nei cantieri e nello stesso tempo impegnati a diffondere e promuovere la cultura della legalità. Siamo infatti convinti, e stamattina ce l'ha confermato e ci fa piacere anche l'onorevole Bubico, che su temi complessi, come appunto il rispetto della legalità, è indispensabile il più ampio confronto e la massima convergenza con il contributo di tutti gli attori coinvolti. Da sempre nel nostro Paese si dibatte di cultura della legalità. Ci si ricordava prima il brigantaggio in Calabria della metà dell'Ottocento, per cui veniamo da lontano da questo punto di vista. Ma oggi più che mai abbiamo bisogno di rilanciare una maggiore coscienza civile, democratica e solidale, perché le sole misure in ambito penale e amministrativo, come abbiamo visto, da sole, non sono sufficienti a ostacolare i fenomeni illegali di questo Paese, che crescono sempre di più. Noi siamo sempre più convinti che la lotta alle mafie, alla criminalità organizzata, a contrasto alla corruzione, allevazione contributiva e fiscale, richiedono un concreto cambio di passo, un modo di riscatto etico e civile. Occorre puntare alla centralità dei diritti e le tutele del lavoro, della crescita occupazionale e dello sviluppo di questo Paese, in un contesto, però, di regole improntate alla valorizzazione della trasparenza e del contrasto efficace alla corruzione e alla penetrazione della criminalità. Perché la legalità non può essere un'idea, un'idea astratta? Un lavoratore occupato in una condizione di legalità, avevamo testimonianza poc'anzi, è un lavoratore sfruttato, doppiamente sfruttato. Anche per questo, la legalità deve essere veicolo di equità sociale ed economica in questo Paese. Le motivazioni dell'iniziativa odierna vanno ricercate, dal nostro punto di vista, nella necessità di far diventare il settore che noi rappresentiamo, il settore delle costruzioni, un settore sempre più trasparente. Un settore che deve svilupparsi intorno alla dignità del lavoro, degli interessi dei cittadini, alla qualità dei servizi e, soprattutto, dico io, delle opere realizzate. Il convegno di oggi rappresenta un'ulteriore occasione per continuare a rilanciare, ognuno per la propria parte di responsabilità, un processo virtuoso ed efficace in contrasto alla corruzione, all'evasione fiscale e contributiva, e anche a caporalato, che ce l'abbiamo anche e fortemente nel nostro settore, che purtroppo ha caratterizzato e continua a contrassegnare il mondo delle costruzioni e, in generale, degli appalti. La parola appalto ha da sempre suscitato pensieri e interessi trasversali e controposti, intrecciando da una parte opportunità di sviluppo, ma anche la corruzione, occupazione e sfruttamento del lavoro, infrastrutture del Paese e degrado del territorio, dove pochi hanno lucrato sugli interessi della collettività, sulla loro salute e, purtroppo, troppo spesso, anche sulla loro vita. Occorre allora mettere in campo strumenti adeguati affinché i cantieri in Italia siano liberati dalla corruzione e dalla criminalità, per realizzare infrastrutture utili e fondate su innovazione, qualità, trasparenza, sviluppo, occupazione e tutela del lavoro e del territorio. Alcuni strumenti, che venivano ricordati prima, anche nelle relazioni di Gorla, sono stati individuati anche grazie all'azione del sindacato, che in questi anni ha permesso di creare regole e strumenti per favorire la regolarità nei cantieri. Penso al DUR, anche se il governo passato veniva ricordato anche da Dottor Pennesi, è stato depotenziato e ha leguato i list anti-mafia. Altri buoni prassi, che sono sempre parte delle proposte avanzate oggi, devono diventare però valore comune, pratica costante, applicabile in tutti i cantieri e non solo nelle situazioni di emergenza e su specifiche opere, come ad esempio quando succede, mi riferisco all'emergenza, sisma e quant'altro. E a questo proposito, il protocollo che è stato ricamato anche prima e firmato a luglio del 2017, con il commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Vasco Errani, con i rappresentanti della struttura di missione creata ad hoc nel 2016, quella di Invitalia e degli ispettorati dei territori coinvolti, e il sindacato ne è un esempio. Infatti il protocollo, lo ripeto anche io, prevede l'attuazione di un piano di controllo coordinato dei cantieri, interessato ai lavori e l'obbligo di redigere e conservare il settimanale di cantiere. Una cosa semplicissima, che non si capisce perché viene così ostacolata. E non è burocrazia. Con una serie di informazioni, tipo l'opera da realizzare, l'indicazione della ditta, eventuali subcontraenti, i mezzi di referente di cantiere. È stato costituito a tal proposto un apposito tavolo di monitoraggio per contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, gli adempimenti relativi alle legislazioni sul lavoro e soprattutto, e anche, aggiungo, l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edile. Perché l'altro fenomeno che stamattina Fennesi ci ricordava benissimo, che noi denunciamo ormai da molti anni, è che ormai il problema si rischia di spostarsi a un altro terreno. qui non discutiamo più di lavoro nero, ma è fatto che il nostro contratto, a loro parere, costa troppo, perché chiaramente vengono previste nelle sedi normative garanzie dei lavoratori sulla sicurezza e chiaramente vanno da altre parti. I risultati li abbiamo visti, quei dati che ci venivano ricordati prima, sulla sicurezza. Voglio ricordare anche che dal 2009 si è deciso, in sede di Ministero degli Interni, di istituire presso le prefetture un comitato per gestire i flussi di mano d'opera nelle grandi opere infrastrutturali. Di conseguenza, i prefetti, dove ci sono le opere, si propongono definire i protocolli di legalità coinvolgendo al tavolo le organizzazioni sindacali di categoria. Bene, noi riteniamo invece, e c'è nelle nostre proposte, che questa modalità debba essere estesa a tutte le grandi opere infrastrutturali, su tutto il territorio nazionale, e non solo nelle regioni ad alto tasso di penetrazione mafiosa, perché, purtroppo, il fenomeno non è circoscritto alle regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Puglia e quant'altro. Prova ne è che le inchieste sulle filtrazioni mafiose si sono avute, basta pensare a me a Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio. Oggi sembra che hanno arrestato pure il sindaco di Sregno, ne hanno arrestato un'altra, sono inchieste a 27 persone, leggevo prima. Sempre per questi motivi. Chiediamo, pertanto, che in merito a Casco, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza e le grandi opere, la presenza del sindacato non sia un invito come è adesso. Come succede, almeno fino a stamattina, mi pare che stanno anche a Milano, stanno firmando un ulteriore accordo per l'area dell'Expo. dell'Expo, ma venga costituito, come anche qui ci sono le nostre richieste, un tavolo permanente. Siamo inoltre convinti che la corretta applicazione delle norme sugli appalti, con tutte le difficoltà di avvio che ci sono, sarà un enorme fattore di crescita per il Paese. Siamo convinti che faciliterà migliori e maggiori programmi di investimento in infrastrutture, contribuendo all'aumento della produttività del sistema e a una maggiore occupazione. Tutto ciò nel rispetto dei contratti collettivi e delle condizioni salariali, perché la tutela dei trattamenti normativi, retributivi, previdenziali e fiscali assuma rilevanza centrale non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche al fine di contrastare prassi distorsive che danneggiano in primo luogo le imprese regolari e socialmente attente. In questo senso, l'applicazione del DURC per congruità, e qui penso che ci dobbiamo mettere nel nostro, perché un conto è averlo nella norma, un conto è tradurlo nella pratica, però abbiamo uno strumento che prima non avevamo, e secondo me non va assolutamente sottovalutato, diventa sempre di più strumento di attestazione della regolarità contributiva attraverso l'indicazione dei costi per la non mano d'opera per interventi pubblici e privati. Contrastare i comportamenti degli operatori economici che fondano la propria competitività su prassi e meccanismi illegali significa, a nostro avviso, sostenere quelle imprese che puntano alla competizione attraverso efficienza e qualità dei processi, dei prodotti e del lavoro. Ma per realizzare tale obiettivo è indispensabile l'effettiva realizzazione, come veniva sostenuto con forza stamattina, la realizzazione della banca dati, che sia però in grado di essere consultabile e di fornire un profilo storico oggettivo della qualità e della correttezza delle imprese che concorrono a Palti. Però abbiamo visto stamattina le difficoltà, perché il problema che sono, non è l'agenzia che ce l'ha in mano, ma deve recepire i dati di altre istituzioni. Ma senza quella, tutto il resto, come abbiamo capito stamattina, diventa ancora più complicato. E dobbiamo dirlo, perché il fenomeno della corruzione e illegalità determina sprechi inefficienti e illeciti, il cui prezzo, e questo è il punto, ricade interamente sulle spalle dei nostri lavoratori, con l'aggravante, in questo caso, di non avere alcun tipo di tutela. Nei sequestri provvisori dei cantieri, purtroppo, l'effetto immediato per i lavoratori e il loro licenziamento, senza alcun sostegno a reddito. Ricordo, per esempio, la vicenda della galleria di Colle Tende in Piemonte, dove i lavoratori sono stati tutti licenziati a seguito del sequestro da parte della magistratura, e purtroppo sono situazioni non sporadiche. E questo, veramente, noi lo riteniamo un atto di ingiustizia non tollerabile, che alla fine della catena, chi ci paga, devono essere i lavoratori, che dalla sera alla mattina si trovano senza lavoro, senza reddito, ma soprattutto questo agevola pure quella cultura dell'illegalità, perché molte volte ci sentiamo dire, come anche nel 92, ma quando c'erano le tangenti si lavorava, ma va bene quello che voi volete fare, ma con la mafia si lavora. Ecco, questa partita va vinta sul piano culturale ed è per questo che è indispensabile le richieste che abbiamo fatto da questo punto. Infatti, bisogna prevedere forme di ammortizzatori sociali di un'altra delle nostre richieste per i lavoratori delle aziende sequestrate, inserendo tra le casistiche tale situazione al fine di poter beneficiare per questi lavoratori della Cassa Integrazione Guadagno. Il sindacato gioca un ruolo decisivo nella lotta contro le infiltrazioni mafiose e il suo senso di appartenenza deve andare avanti nella sua opera di informazione, vigilanza e soprattutto di diffusione della cultura e della legalità. Perché quando tutele e diritte vengono meno, le mafie hanno davanti a loro un terreno fertile per crescere, svilupparsi e aggregare intorno a loro giovani generazioni. Non possiamo accennare, come dicevo prima, che con la mafia si lavora, lo ricordavo prima il compagno che è intervenuto prima, con l'antimafia si spacca. Con la convinzione che l'illegalità produce iniquità e contribuisce alle diseguaglianze e all'ingiusta redistribuzione del reddito con riflessi sull'economia reale e sulla socialità devastanti. I dati lo confermano, venivano ricordati prima, ma è meglio metterci nuovo nella testa. In Italia abbiamo 130 miliardi di euro di evasione fiscale e contributiva. Non sono dati nostri, eh? 60 miliardi di corruzione e 27 miliardi tra usura e pizzo. Più di un quarto del nostro prodotto interno, l'ordo, proviene da attività illegale. Diventa fondamentale allora contrastare adeguatamente l'evasione fiscale per giungere un uso equo delle risorse pubbliche e un equilibrio tra produzione della crescita e la sua distribuzione, contrastando l'economia sommersa e il lavoro nero, dando giusta centralità al lavoro. Chiudo. Il lavoro congiunto che riusciremo a mettere in campo sono convinto che darà i suoi frutti. Si lanciava stamattina l'idea di fare ulteriore iniziativa a livello locale, che non diventi solamente una giornata aperta e chiusa al libro. Darà i suoi frutti a dimostrazione ancora una volta che le relazioni sono un valore insostituibile e che solo il confronto tra le parti può portare a risultati importanti. Una sfida che il sindacato è felice di cogliere e che soprattutto continuerà a portare avanti con molta determinazione. Grazie e buon riempio. grazie a tutti. Grazie.